Datti positivi e un aumento nella raccolta differenziata in Sicilia. Gli interventi del Presidente della Regione Crocetta e del dirigente di settore Cocina, Gero Miciche. Tanti sono stati progetti annunciati e poi non concretizzati da parte del Governo regionale in carica, tra termovalorizzatori, aumento e potenziamento delle discariche pubbliche, e spedizioni di tonnellate di rifiuti oltre lo stretto di Messina. E a fronte invece della costante condizione di stallo, l'unica risorsa su cui si intensificano gli sforzi è la raccolta differenziata. La Sicilia è da sempre fanalino di coda in Italia in tale ambito, ma adesso si profilano dei segnali positivi, almeno secondo il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, che presentando i dati sulla differenziata non ha esitato a definirli una svolta, aggiungendo «siamo arrivati al 21%, incrementando del 10% in un anno. Molti sindaci stanno facendo un ottimo lavoro anche grazie al nostro impegno. Stiamo mettendo a regime il sistema, finalmente abbiamo impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati che vanno in discarica, e con la minaccia dei commissariamenti dei comuni abbiamo incentivato la differenziata». Meno ottimista ma pur sempre in positivo è il responsabile dell'ufficio speciale per la raccolta differenziata in Sicilia, Salvo Cocina, che riferisce di un aumento medio dell'1% e spiega «abbiamo puntato molto sul porta a porta. Ci sono delle province virtuose, come Caltanizetta e Trapani, e altre invece che sono molto indietro. I comuni più virtuosi sono quelli piccoli, mentre in ritardo sono le grandi città. Palermo, ad esempio, è ferma al 13%, Catania, Messina e Siracusa sono al 10-14%. Dunque, ecco la logica conclusione di Cocina, se noi vogliamo arrivare ad elevate percentuali di differenziata, dobbiamo lavorare sulle grandi città». E poi lo stesso dirigente regionale punta il dito contro i comuni inadempienti, già sotto la minaccia del commissariamento, e ricorda che gli enti locali che non praticano la raccolta differenziata danneggiano le casse pubbliche e quindi si tratta di un danno all'erario. E Cocina cita tra l'altro il caso del comune di Catania, dove una gara d'appalto è stata appena dichiarata illegittima perché nel bando sono stati introdotti bassi livelli percentuali di raccolta differenziata.